Musica Come vi ho detto ieri, oggi non facciamo un lavoro fisico, il programma è 5-6 minuti per conto vostro, Cirelli, facciamo un possessino qua, poi facciamo due movimentini senza palla e poi facciamo due movimentini con la palla e chiudiamo con la partitella. Mister, si ricomincia, come si sente? C'ha voglia? Tanta voglia sì perché se facciamo i conti in un anno solare questi ragazzi hanno giocato due mesi, se contiamo marzo 2020, marzo 2021 abbiamo giocato veramente due mesi, di agosto e settembre, per cui la voglia è tanta, l'entusiasmo è tanto, soltanto l'idea di stare qua all'aria aperta su un campo da calcio e vedere correre i ragazzi per me è gioia e soddisfazione. Che cosa ha detto i ragazzi al primo allenamento? Gli ho detto che inizia un minicampionato dove sicuramente non vogliamo fare brutta figura, dove la società mi ha messo a disposizione una rosa, una squadra competitiva per fare questo minicampionato, chiaramente essendo un campionato di dieci partite ci sono mille varianti, il covid, gli infortuni, la cosa che mi preoccupa di più è il discorso fisico, cerchiamo di fare le cose con cognizione per poi affrontare queste dieci partite al meglio e tirarci fuori il meglio possibile. Si è posto degli obiettivi in queste dieci partite? Sicuramente quello di non fare brutta figura, di questo ne sono convinto. Poi gli obiettivi, la società è una società ambiziosa, vincere piace a tutti ma poi alla fine ne vince una. Mi piacerebbe arrivare nei primi tre barra quattro, quello sicuramente, poi vediamo, è un campionato talmente strano con mille varianti che è anche difficile fare previsioni. Qual è la cosa più difficile da far capire i ragazzi dopo un periodo così difficile? Ho la fortuna di avere una squadra, non dico datata, però con qualche anno alle spalle, per cui sono ragazzi super intelligenti, super preparati, per cui di difficile nulla è difficile. Quello che chiedo lo fanno, hanno lavorato a casa, stanno lavorando con grande entusiasmo qua, per cui di difficile è vincere le partite, quello sì. Mario, si ricomincia, sensazioni, emozioni, come ti senti? Allora, già noi del Varsi dobbiamo ringraziare la società perché ci ha dato modo di ripartire in questa pandemia che non tutte le squadre hanno deciso di giocare, per cui noi siamo orgogliosi e contenti di giocare per il Varsi. La sensazione è come il primo giorno di scuola perché ci siamo lasciati a ottobre e ci ritroviamo a marzo, ma con ancora più entusiasmo rispetto a quello che avevamo, forse con qualche chiletto in più, però vabbè, ci metteremo a posto sicuramente. Quando vi siete rivisti il primo allenamento, cosa vi siete detti? Che vogliamo vincere tutte le partite a disposizione, ma anche gli allenamenti diventano importanti, perché insomma dopo cinque mesi senza calcio avevamo voglia di ricominciare, per cui insomma c'è stato un po' un, come dicevo, un po' il primo giorno di scuola, quindi l'entusiasmo che vedo in questi giorni non lo vedevo da tempo, perché sai, cinque mesi e soprattutto un campionato che durerà dieci partite diciamo che è veramente una cosa particolare, per cui ci metteremo anima e corpo per riuscire a vincerle tutte, sperando magari di raggiungere la Serie D, che per il Varsi e per la nostra squadra sarebbe veramente qualcosa di eccezionale. Diciamo che non ti nascondi, l'obiettivo è dichiarato. No, no, beh, l'obiettivo è ovviamente quello di vincere tutte, poi il campo parlerà, la squadra è stata allestita sicuramente per cercare di vincere, ovvio che tante squadre sono state costruite come noi, per cui poi è un campionato talmente strano che è impossibile fare delle previsioni, certo che noi con la rosa che abbiamo e con l'allenatore che abbiamo sicuramente dovremo puntare a vincere sicuramente. Adesso che hai parlato così ti deve far giocar per forza il titolare. Ah beh, anche perché se mi cambia dico subito alla società di mandarlo via. No, scherzo, ovviamente, perché decide lui. Cioè, è anche un allenatore quotato, quindi credo che sappia cosa fare. Quindi di certo la numero 10 sarà sulle mie spalle, su questo non ho dubbio. Marco, si ricomincia? Sensazioni? Voglia? Voglia tantissima, anche perché la mia stagione personale non era mai iniziata quest'anno, perché in Emilia avevamo rinviato tutte e tre le partite, quindi la voglia è sicuramente tantissima. Sensazioni positive, sono arrivato in una società molto ambiziosa, in un gran bel gruppo e mi hanno fatto subito sentire a casa. Tuo obiettivo personale? Obiettivo personale è mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni e divertirmi, perché alla fine è un divertimento con obiettivi importanti da parte della società e giocarci ogni domenica con tutti. Qual è, secondo te, la cosa più importante da mettere in campo dopo questo lungo stop? La voglia. La voglia, perché siamo stati fermi più di cinque mesi, quindi la voglia è la cosa principale, sicuramente. Determinazione e penso che vincerà chi farà meno errori. Quali sono gli errori da non fare, a proposito? Gli errori sono tanti e siccome sono solo dieci partite, anche sbagliare solo una partita può essere fatale, quindi giocare con concentrazione dall'inizio alla fine e mettercela sempre tutta. Com'è stato fare il mercato? È stato un mercato strano, perché chiaramente le squadre che hanno deciso di partecipare, come si è visto, hanno cercato di costruire delle rose veramente importanti, quindi la concorrenza è stata tanta. Noi abbiamo fatto delle scelte, siamo andati su di giocatori che o conoscevano già l'ambiente, come Zanellati Paesotto, oppure che avevamo già avuto l'opportunità di lavorare insieme negli anni passati e quindi abbiamo cercato comunque di mantenere e di fare un mercato, chiamiamolo in casa, con delle figure che già conoscevamo. Non abbiamo fatto esperimenti in sostanza, abbiamo cercato anche di ragionare sulla vicinanza logistica e infatti i ragazzi che abbiamo preso sono tutti della provincia di Pavia, appunto perché ci è sembrata la scelta più consona, visto anche il momento. Quale sarà, secondo te, la cosa più difficile da affrontare in questo rientro nel calcio? Allora, io penso che i giocatori non sono delle macchine che si accendono e partono, quindi penso che la difficoltà che avremo tutti, questa non c'era solo il Varsi, sarà appunto la tenuta atletica, perché non è mai successo che un atleta sia stato fermo così tanto tempo. E poi sicuramente la frenesia magari di raggiungere l'obiettivo, perché tante squadre si sono attrezzate per vincere il campionato e penso che la pressione di dover vincere per forza, perché penso che in un campionato di 10 partite si possono sbagliare poche, quindi quello sarà difficile per tutti da mantenere durante il campionato.